Il territorio di Morciano parliamo di una storia lunga, decenni direi probabilmente, però che sta trovando una soluzione, una quadratura, perché di fronte alle ipotesi varie che sono state fatte per l'ex pastifice, per tutta l'area circostante, oggi si delinea, anzi si è delineata già nei mesi scorsi, una nuova progettualità secondo l'amministrazione più corretta nei confronti della città e dei morcianesi. Ci racconti un po', sindaco? Sì, in effetti, come giustamente diceva lei, la saga del pastificio Ghigi nasce ormai esattamente vent'anni fa, quindi era proprio l'anno 2000 quando l'allora pastificio Ghigi, che produceva la propria pasta nel bel centro di Morciano, ebbe a dire al comune di Morciano che era un po' impossibile procedere a realizzare quel loro prodotto in un centro cittadino, come poteva essere appunto il loro vecchio stabilimento, e da lì iniziarono tutte le iniziative funzionali un po' a creare le condizioni, primo per la costruzione del nuovo stabilimento e secondo evidentemente per la riqualificazione dello stabilimento che avrebbero dismesso. Sembra un secolo fa, ma da quella iniziativa è poi nato il nuovo ponte sul fiume Conca, è nata la nuova area industriale di San Clemente, è nata la possibilità di riqualificare una porzione importante di Morciano funzionalmente al fatto che Morciano è il luogo avvocato ai servizi da sempre, e quindi ipotizzare alcuni ettari nel bel centro del paese come luogo che in qualche modo potessero rafforzare questa vocazione territoriale era certamente una prospettiva importante ed una visione allora evidentemente necessaria per il futuro di questo paese. Sono passati gli anni e come spesso qualcuno dice il cambiamento non è mai immediato, ma il cambiamento avviene per gradi successivi. Questo cambiamento che è avvenuto per gradi successivi è stato dovuto un po' anche ai tempi della Ghigi, che ricordo che alla fine del 2008 venne messa in liquidazione, così come è stato dovuto un pochino poi a tutto il problema che abbiamo vissuto dal 2008 in avanti, la crisi del settore immobiliare, la crisi economica generalizzata. Se vogliamo sindaco, anche rispetto ad una progettualità iniziale sono cambiati proprio anche i tempi, cioè oggi pensare ad una riqualificazione dove c'è tanto cemento e poco verde è impensabile, quando invece forse 15-20 anni fa era normale, c'è un posto, c'è tanto spazio, creiamoci il più possibile, quindi si pensa a costruzioni, case, abitazioni, i tempi sono proprio cambiati anche da quel punto di vista lì. Grazie a Dio sono fortemente cambiati, fino verosimilmente al 2008 tutto ciò che poteva essere costruito veniva costruito, oggi è proprio cambiato il paradigma, è necessario avere non solo tempi lenti nella vita di tutti i giorni, ma avere anche luoghi vivibili, ambientalmente riconoscibili, rispettosi dell'energia, del consumo di energia, così come rispettosi del consumo del territorio. Quindi questo è un piano di riqualificazione che nasce a suo tempo, quindi 20 anni fa per occupare ciò che c'era, quindi l'immobile che esisteva e che complessivamente allora faceva 20.000 m2 di superficie utile, per poi abbassarsi progressivamente nel tempo fino ad arrivare ad oggi dove si prevede un'edificazione non superiore a 7.700 m2, sostanzialmente un terzo di quello che era l'originale immobile e direi un 40% in meno di quello che si era ipotizzato nel 2013, quindi 7 anni fa. Sindaco, diciamo che l'accordo che voi fate con il soggetto attuatore, insomma c'è tutta la parte burocratica che forse a chi ci ascolta interessa meno, anche se a livello amministrativo sono passaggi fondamentali, per cui quello che si pensa poi ci vuole un po' di tempo prima di riuscire ad attuarlo. Però voi siete andati in Consiglio Comunale questa settimana, metà della settimana, tra l'altro ottenendo rispetto a questa nuova progettualità anche un consenso quasi unanime del Consiglio Comunale perché sono stati due astenuti, quindi diciamo che tutto sommato anche questo voto del Consiglio Comunale suggerisce di andare avanti per questa strada. Ci fa una fotografia? Perché magari per chi è della Valconca, ci segue, comunque Morciano la conosce perché ci viene ogni tanto, comunque conosce molto bene la storia del pastificio, che cosa ci sarà? Perché poi avete, diciamo che anche il soggetto attuatore, il rinnovamento Ghigi, ha rinunciato a realizzare una cosa per aiutarvi a costruirne un'altra. Sì, esatto. Il tentativo del riordino di questo accordo era funzionale a due obiettivi. Primo, evidentemente, dotare il Comune di Morciano di servizi che oggi, 2020, evidentemente non possono essere quelli pensati vent'anni fa, perché nel frattempo il Comune ha comunque realizzato molte delle opere che si era impegnato a fare. Penso, per esempio, al nuovo Palazzetto dello Sport, piuttosto che l'Auditorium, piuttosto che le nuove scuole, eccetera. Quindi questo piano di riqualificazione urbana del 2000, che prevedeva al proprio interno una serie di proprietà pubbliche da poter utilizzare, secondo quanto dicevo sopra, evidentemente negli anni c'è stata una necessità di rivederle in funzione del fatto che anche i tempi della pubblica amministrazione, in questo caso, erano stati più veloci dei tempi del privato. Quindi ciò che si chiedeva al privato di fare, in realtà, nei tempi tecnici che servivano al Comune, non viene mai realizzato, tant'è che il Comune si è sostituito e realizzato di suo queste superfici. Pertanto, nel 2013, quando viene individuata la prima revisione di questo piano di riqualificazione, viene individuata, solo a opera pubblica da farsi all'interno di questo complesso che ospitava il pasto di Piccioghigi, un auditorium di circa 700 metri quadrati, capace di ospitare 300 o 350 persone. Se non che, però, proprio negli anni immediatamente successivi, al 2013, penso al 14, al 15, al 16, la pubblica amministrazione morcianese realizzò quello che è stato chiamato il raddoppio del padiglione fieristico del Comune di Morciano, nel quale raddoppio è stato individuato anche quest'area destinata ad auditorium, quindi un'area avvocata agli spettacoli, a teatro e a quant'altro. Ecco che a quel punto, in un territorio che non è certamente immenso, non si può non pensare alla razionalizzazione delle superfici comunali, quindi era assolutamente impensabile poter continuare a dire abbiamo fatto un auditorium presso il padiglione fieristico e ne facciamo un altro anche all'interno del piano di riqualificazione urbano. Per questo motivo, anche il sentimento di alcuni mesi che sono stati utilizzati per fare una sorta di verifica e di analisi partecipativa da parte delle associazioni, delle persone, quelle di stakeholder del Comune di Morciano, affinché si potesse effettivamente individuare quali fossero oggi le esigenze di futuro di questo Comune. E tutti indistintamente hanno posto il dito sulla necessità di crescere in cultura. Morciano è una cittadina che ospetta quotidianamente circa 2000 studenti. E' forse il primo paese dell'immediato entroterra che ha servizi di carattere culturali, artistico, bibliotecario che devono essere messi a sistema, anche perché l'attuale nostra biblioteca oggi è di fatto ospitata da una vecchia scuola elementare costruita tra l'800 e il 900, quindi vincolata dalla soprintendenza nella quale evidentemente poche modifiche possono essere fatte. La modernità ci dice che oggi i luoghi evocati alla cultura devono essere particolarmente agibili da tutti i punti di vista, tecnologici e non solo, devono essere in qualche modo modulari. Possono poter ospitare piccoli riunioni, possono poter ospitare presentazioni piuttosto che installazioni, piuttosto che mostre. Ecco allora che abbiamo prodotto questa proposta a rinnovamento Ghigi, proposta che è stata realizzata in accordo con il Politecnico di Milano, al cui interno esiste proprio un insegnamento per insegnare ai nuovi architetti come si progettano strutture pubbliche, affinché questa struttura che avevamo pensato nuova, quindi questo nuovo polo culturale polivalente del Comune di Morciano, che avrebbe dovuto inglobare anche la biblioteca, potesse essere effettivamente realizzato ed effettuato. C'è stato da lavorare, perché non mi nascondo che ci sono stati mesi intensi, però poi alla fine si è trovata la quadra e quindi il Comune realizzerà direttamente, quindi per il tramite di un bando pubblico per individuare i progettisti e poi con un appalto pubblico per la realizzazione questa nuova struttura che sarà posta nei pressi dell'edificio della Ghigi, la nostra ex scuola media che nasceva esattamente di fronte al padrone fieristico, struttura di mille metri quadrati di superficie utile su due piani, il piano terreno sarà tutto destinato a biblioteca comunale, il piano superiore sarà invece destinato proprio a quanto dicevo prima, quindi esposizioni temporanee ma anche possibilità di ospitare incontri, piccole riunioni, mediateca e quant'altro. Sindaco, tra l'altro vi siete dati anche dei tempi, diciamo che in questo momento i tempi lunghi sono il 2024, ma so che lei in Consiglio Comunale ha detto io spero nel 2022 di averla questa biblioteca, è vero? Ho detto così, è giusto? Assolutamente sì, nel senso che quando si stipulano gli accordi evidentemente ci si mette sempre nella parte peggiore, no? Soprattutto quando si parla di appalti pubblici. Bravissimo, qualora andasse tutto male, quali sarebbero i tempi massimi che ci diamo? Ecco, ci siamo dati il 2024, ma in realtà le posso dire che non appena questo accordo di programma sarà sottoscritto da provincia e regione, perché questo è un accordo che condividiamo assieme al soggetto attuatore anche con i due soggetti istituzionali di riferimento sovracomunale che appunto sono la provincia di Rimini e la regione Emilia Romagna, cosa che io ritengo possa essere fatta già entro il mese di novembre. Noi immediatamente partiremo con il bando che è già pronto, perché nel frattempo ci abbiamo lavorato, bando di progettazione che sarà un bando particolare, perché non sarà un bando relativo voglio costruire un edificio, punto. No, sarà un bando che dice io ho un'area che prevede in questo momento l'esistenza del padiglione fieristico, nonché l'auditorio, una via che si chiama via 25 Luglio, un'altra che si chiama via Forlì, un'altra che si chiama via Roma, nel bel mezzo ho la ex scuola media che devo abbattere, ci voglio costruire un edificio, riprogettatemi tutto l'intorno. Oggi è così che si fa, ci sono dei quadranti, delle zone che vengono tutte riqualificate con nuove costruzioni. Sindaco, mi permetta prima di salutarci, perché poi so che ha anche impegni di altro tipo, quindi non voglio rubarle ulteriore tempo, un'ultima domanda sul tema delle superfici commerciali, perché ricordiamo che quando si parlava anche della riqualificazione dell'ex pastificio c'erano anche parecchi mugugni da parte di chi diceva, ma sì, ma dopo arrivano queste aree commerciali grandi, ma poi piccolo commercio come fai? Chiaro, all'inizio ce lo diceva, molto più ridimensionato, però quando arriva qualcosa di nuovo, qualche preoccupazione, chi è attorno ce l'ha. Che cosa dire anche ai morcianesi in questo senso? Ci cambia un pochino il paradigma di riferimento, nel senso che questo progetto tende ad aprirsi nei confronti del centro storico, abbattendo quelle cose un pochino autoreferenziali che avrebbero attratto l'utente senza sostanzialmente consegnarlo alle vie, alle strade, ai commercianti esterni. Erano previste alcune situazioni architettoniche di collegamento proprio tutto interno, per cui una persona avrebbe parcheggiato nell'interrato, lì sarebbe entrato e da lì sarebbe uscito per andare a casa, queste cose sono venute meno e anche da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista legato alla viabilità, è un immobile oggi che si è veramente aperto, sono venute meno pensiline di passaggio tra due blocchi di riferimento, le strade che lo circondano saranno complessivamente aperte. Stiamo lavorando e sarà questione di qualche settimana alla riapertura di una via colombare, che è una via centralissima per il comune di Morciano, che oggi in effetti è una strada chiusa in virtù del fatto che un tempo c'era lì il mangimificio del pastificio Ghisi. Quindi questa riapertura di strade, questo venir meno di questa sorta di autoreferenzialità dell'edilizia realizzata all'interno del piano dell'equazione urbana, ci consente di dire che questo è un luogo più aperto di prima, ma soprattutto anche da un punto di vista delle superfici, le superfici che calano di circa 3 mila metri quadrati, in modo particolare metri quadrati che erano vocati a residenza, in parte a commercio, riducono l'impatto sostanziale sull'urbanistica del paese. Io penso che oggi come oggi i tempi che stiamo vivendo non siano tali per cui il sistema paese debba collegarsi con questa struttura e non più creare un'accesoia tra ciò che c'era e ciò che ci sarà. Al contrario, questo deve rappresentare una sorta di naturale ampliamento del centro urbano. Della città, del centro storico. Ma al volo che cosa ci sarà proprio dentro l'edificio, sindaco? Cioè l'edificio che chiaramente sarà dentro quell'area dell'ex pastificio? Allora, complessivamente lì già nel lontano 2000 la provincia di Rimini individuò 4 mila metri quadrati di superficie commerciale, una grande struttura di vendita, pari a 2.500 metri quadrati massimi, più 1.500 metri quadrati di superficie, di media struttura di vendita. Sostanzialmente verrà una grande struttura alimentare. Un supermercato. Un supermercato di 1.500 metri. Sostanzialmente più 1.000 di non alimentare ed altri 1.500 di non alimentari di strutture medie. Diciamo frazionali. Un supermercato a 400 metri quadrati. Quindi negozi che ci sono all'interno del bacino dove c'è anche il supermercato. Perfetto. Sì. E poi cos'altro? Niente? Le residenze? Le residenze sono saltate tutte, mentre invece, ecco questa è un'altra novità di questo accordo di programma, è che il comune si è riservato di acquistare per intero il primo piano dell'edificio che guarda il fiume sostanzialmente quindi che insiste su via serrata per destinarlo a uffici pubblici. In particolare noi acquisteremo 620 metri quadrati per poter allocare lì definitivamente alcuni servizi importanti come sono i carabinieri forestali della nostra Valconca che sono ospitati oggi a Morciano in un'altra struttura, ma anche l'Inps, la sede dell'Inps della Valconca, nonché alcuni servizi territoriali come sono l'ex collocamento attuale centro per l'impiego, ma anche lo sportello sociale del distretto sociosanitario di Rimini Sud. Quindi un piccolo centro di servizi pubblici che viene individuato all'interno di una struttura che da un punto di vista di parcheggi e di raggiungibilità darà in qualche modo qualità e sostanza anche al servizio che andiamo a insediare. Sindaco, tutto molto chiaro, la strada è ancora lunga lo abbiamo capito perché non è che domani andiamo ad aprire il cantiere, però diciamo che se come dice lei nell'arco di qualche anno quella parte lì che attende veramente da decenni di essere riqualificata potrebbe vedere un nuovo modello. Io incrocio le dita e farei una previsione di questo tipo. Fine lavori della riqualificazione urbana 2021, quindi entro il prossimo anno. Avvio dei lavori della nuova biblioteca entro il 2021 per poterla vedere conclusa fine 22, sempre che il diavolo non ci metta la cosa. Beh quello speriamo di no ma insomma in questo momento. La parte diciamo Ghigi loro invece ancora prima? Cioè quanto? Il centro commerciale? Sì. Il centro commerciale io penso che dal marzo prossimo loro potrebbero avere in mano i nuovi titoli edilizi per completare l'opera e se tutto andrà bene io conto che entro l'estate del prossimo anno i lavori siano finiti.